Ciao a tutti, Dreamlike Moon vi da il benvenuto a questo video guida su come sbloccare Flower Garden sul Tamagotchi Meats Pastel destinazione che va a sostituire la seconda destinazione presente sulle altre due versioni attualmente disponibili di Tamagotchi Meats per cui il giardino fondamentalmente allora come prima cosa bisogna aver sbloccato questa destinazione cioè Easterland ho appena dedicato un video a questo per cui potete trovarlo tranquillamente insomma seguite il link che trovate qua sopra in cima a destra per vedere come sbloccare quella destinazione se ancora non l'avete visto dopo quindi aver sbloccato questa destinazione dovete andare alla terza opzione di Easterland e lo facciamo insieme anche se ci sono già stata io insieme a voi a dire il vero non ci portiamo alcun gioco perché dobbiamo appunto scegliere la terza opzione cioè la caccia alle uova in questo modo con la caccia alle uova dovete avere fortuna e trovare l'uovo che contiene il miele adesso io l'ho già trovato il miele insieme a voi per cui non è detto che lo trovi di nuovo però questo uovo è particolare oh non mi è mai capitata questa animazione però vabbè questo fa parte di Easterland per cui ci interessa fino a un certo punto questa è solo una parentesi diciamo per farvi vedere come ottenere il miele sì bellissimo grazie quindi a questo punto avrete ottenuto il miele cioè non così ma proprio vedete che c'è l'uovo insomma poi l'uovo si apre dentro trovate il miele che vi compare qua tra i giochi quindi una volta che avete il miele lo utilizzate semplicemente ci giocate come con qualsiasi altro gioco in questo modo si dovrebbe sbloccare infatti mi sa proprio che è un'animazione di sblocco questa si dovrebbe sbloccare Flower Garden abbiamo qua la peregina penso poi non sa cos'è le operaie che ci portano a Flower Garden e abbiamo sbloccato anche un nuovo sfondo icone a quanto pare va bene grazie allora andiamo subito a Flower Garden perché io sono curiosissima in teoria dovrebbe esserci ancora la possibilità di coltivare a Flower Garden comunque adesso vediamo ci prendiamo un gioco? ovvio che sì ci prendiamo quel gioco che non capivo l'altra volta ah no perché l'ho lasciato fuori allora niente ci prendiamo di nuovo il miele piacerà sicuramente agli abitanti di questo posto che bello che è va bene quindi andiamo al parco Violetchy o Flowerchy in una versione speciale tutta floreale bellissimo adoro queste due destinazioni nuove sul Meats Pastel davvero sono stupende e Flowerchy è carinissima va bene quindi lei l'abbiamo incontrata andiamo a vedere cosa ci aspetta nel negozio di questa destinazione ogni destinazione è una scoperta ed è per questo che a me piace scoprirle con calma non farle tutte subito perché poi ci si brucia tutta la sorpresa diciamo scopri tutto subito diciamo a vita breve purtroppo questo Tamagotchi era così anche con i Mix Mix e Meats hanno vita breve se si sbloccano subito tutte le destinazioni non ve lo godete parere mio chiaramente allora da mangiare abbiamo un bellissimo fiore torta questo che sembra insalata con qualcosa non lo so e una zuppa credo poi come dolci abbiamo un altro uovo di Pasqua ovviamente biscotti forse cioè biscotti a forma di fiori di bouquet e il gelato fiore bellissimo il gelato rosa stupendo poi come giochi vediamo quali sono quelli di questa destinazione allora abbiamo questo cono e questo che non so che cos'è è interessante dopo lo prendiamo e come ultima cosa gli accessori oh l'ho saltato un attimo una rosa ok e degli orecchini a forma di fiori bellissimo e questo è il negozio poi terza opzione qua scopriremo di che si tratta se davvero torna il giardinaggio o meno o se è un'illusione scusate fuori il camioncino che passa my garden comunque sì per cui torna il giardinaggio e qua tornano gli ecotriplets a rompere le scatole ah no vabbè ok abbiamo capito grazie per cui sì c'è il giardinaggio anche qua perfetto poi voglio scoprire cosa abbiamo raccolto questo lo vedremo più avanti magari anche perché dovremo vedere tutti i personaggi con cui sposarsi però ora torniamo al negozio e ci prendiamo sia questo per cui vediamo che cosa fa perché di solito nelle guide ho sempre tralasciato giochi accessori invece è carino vedere anche che cosa fanno il tipo di animazione che hanno e ci prendiamo questo che mi incuriosisce parecchio ecco qua il cono penso che sia quello festivo tipo per lanciare coriandoli forse magari no no è un'altra cosa invece non mi è ben chiaro cosa sta succedendo però sì dei coriandoli li lancia non quelli che pensavo né coriandoli né stelle filanti cioè non stelle filanti ecco però coriandoli è quanto pare sì vabbè ok ci sta però quello che mi incuriosisce davvero come avevo già accennato è questo che cos'è bellissimo ok fantastico non farla stupida bello penso che sia il mio gioco preferito finora ok allora io direi che ci vediamo quando ho scoperto i personaggi da sposare o meglio li ho incontrati tutti e per vedere soprattutto che cosa raccogliamo nel nostro giardino alla fine alla fine ho deciso di non aspettare che ciò che ho piantato nel giardino cresca perché volevo pubblicare questo video prima di pasqua e col montaggio e tutto credo di non riuscire ad aspettare che quanto che gli ortaggi gli ortaggi almeno i semi che ho piantato crescano quindi andiamo direttamente ai personaggi che si possono sposare prima di tutto voglio farvi vedere che questo è il nuovo sfondo icone che si sblocca e quindi passiamo ai personaggi da sposare sono tre due femmine e un maschio diciamo che sono personaggi classici ormai praticamente però è bello che li abbiano inseriti per cui lui io subaci poi lei che è flowerci o violeci o come vogliamo chiamarla non so come è chiamata in questa edizione lo vedete sotto e lei che io ho sempre adorato un sacco e sono felice che sia tornata anche sul tamagotchi per cui direi che per questo video è tutto per questa mini guida per cui ricapitolando per sbloccare flower garden dovete prima di tutto aver sbloccato easterland una volta che avete sbloccato easterland dovete andare a fare la caccia alle uova quindi la terza opzione di easterland e assicurarvi che trovate il miele dopodiché andate nel cesto dove avete i vostri giocattoli per cui nell'icona del forziere e giocate col miele e quindi si sblocca questa destinazione non credo che ci siano problemi cioè non serve avere un'età in particolare o essere a una generazione in particolare solo che per sbloccare easterland dovete essere almeno alla seconda generazione per cui spero che questa guida vi sia piaciuta se è così mettete mi piace commentate iscrivetevi perché le guide non finiscono qui ne arriveranno molto presto delle altre quindi vi consiglio di seguirmi se avete domande io sono felice sempre di rispondere per cui non fatevi assolutamente il problema per cui a questo punto direi che ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti